Cittadini consapevoli si diventa. Il Liceo Marconi di Pescara ha partecipato al progetto ASOC, a scuola di open coesione, e ha dato ai ragazzi della Quarta Adelice Economico-Sociale la possibilità di occuparsi di un fatto importante della città, la deviazione del porto canale. Un cittadino deve sapere come vengono impiegati i finanziamenti pubblici che siano europei o nazionali. Nella mission del percorso didattico questo appare evidente, tant'è che il team dell'Liceo Marconi si è posto tante domande, tra queste come verranno spese le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, che ammontano a oltre 13 milioni di euro. Questo progetto risolverà uno dei più grandi problemi di Pescara, che è l'insabbiamento del fiume, tenendo ovviamente anche un occhio al miglioramento delle condizioni del mare, quindi ci sarà un abbassamento dell'inquinamento marino. Speriamo che così possa aiutare la nostra Pescara a realizzare tutto il suo potenziale. Il progetto prevede una somma di più di 13 milioni di euro e un tempo di realizzazione di, pensiamo, più di 5 anni. Noi abbiamo una grande fiducia in questo progetto e non vediamo l'ora di vederlo realizzato. Oltre ad aver analizzato i dati, ci siamo anche improvvisati giornalisti, intervistando il sindaco di Pescara, Carlo Masci, il presidente della Confcommercio, Riccardo Padovano, e sentiremo Tommaso Impicciatore, che è il responsabile del RUP, e abbiamo intervistato il comandante Fabrizio Giovannone, che è il capitano della capitana di Agri Porto. E nel percorso didattico sono venute fuori anche competenze che qualche ragazzo non pensava di avere. Abbiamo imparato diverse cose, a partire dall'analizzare dati, a realizzare video, dal montaggio, a creare interviste, pubblicare, a lavorare insieme in gruppo, risolvendo anche problematiche, sempre lavorando insieme. Inoltre ci siamo cementati sui social, infatti abbiamo diversi account su Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, e in tutti i social ci chiamiamo Lifunaro. E soprattutto diventerete sicuramente cittadini attivi. Certo, stiamo facendo un percorso come cittadini attivi per essere più vicini anche alla politica, al sociale e a tutto ciò che in qualche modo riguarda la nostra città Pescara.